salve cavalli oscuri e benvenuti in questo nuovo episodio di di bazara samurai heroes quanta attenzione questo cane allora potenzialo attacco e si va contro kinsi se poi ce l'ho anche come supporto bella questa sarà la penultima battaglia e quindi come al solito non pensate like condividete lasciate un commento e serviamo a 5 barra like 5 barra commenti il prossimo episodio ma è quel bazzucca puntare e caricare fuoco nooo e vai con la mitragliatrice bella che siete bella che siete bella tini bella tini bella 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 Non posso smutere la crescita di un'imposte. Un'imposte di amore! Un'imposte di pazza! Sì! Vedo il'imposte di un'imposte! Vedo il'imposte di un'imposte! E il'imposte di un'imposte! Il'imposte di un'imposte di un'imposte di un'imposte di un'imposte di un'imposte di un'imposte. C'è stato il'imposte di avere il mese che il cliente sui? No, ma sicurezza! Cosa è possibile che protegi un'imposte di un'imposte di un'imposte che ho amato e per l'alberia? Vedete cosa? Ho avuto di essere giusto da parte per altri punti! È tempo per hardire! togliettelite va bene con le granate è fermo è un po' di sconfitto ok, partiamo al scontro dei mosse ecco, quello che potete andare dal futile chi è? allora, fammi un attimo per tutta la vita come sei territori e poi dal mio visuale non vedo la vita bene, il mio cane si è calmato finalmente ok, andiamo avanti va ok, poi c'è un personaggio che come avrò già detto muore con due colpi però stranamente non muore mai insomma, se la cava in ogni caso bene, è apparto allora, lui non devo per forza ribatterlo a me non mi pare bello, diciamo, questa mostra in stile Dante bene, si è conquistato bene quindi, non c'è nessun altro leader come grande o forte come Magoichi allora, subito quasi dovrebbe essere lui poi Katsuga l'affronto più avanti vabbè, sento qua quindi si prova sempre con lei eh, perché su queste domande perché gli piacciono e adesso muori vabbè, ma quando ho ordinato dei missili oh no odio questi qua quando cantano sono fastidiosi ecco fatto ecco fatto ok, prossima aria vabbè, questo lì dai l'assalto e vado da lei subito ecco lì vabbè, non c'è nessuno Grazie per la visione! Ah, una delle bellezze di videogiochi è lei, veramente. Sicuramente poi l'avrò già detto, ma è un peccato che lei non si possa usare in questo capitolo del gioco. Ecco, in questo gioco, insomma, l'avete capito. Lei si può usare nel due e sul primo gioco, che è solo per i due, che si chiama Devil King. Bellissimo gioco. Ah, che se diavano sui nomi diversi. Ehm, non let your spirits waver! I see. It is nice to stop and think of bygone days. Sometimes I feel, as if I had been frozen in time. Try if you dare! Let's see what you are capable of. See if you can withstand the bite of my sword. Bene, arrivo. Let us banish the cold so that spring may flourish across the lands. Dio della guerra. Mi pare che mi mi sia nato così. Ehm, ok. This moment has been a long time coming. Now that it's here, savor it! If you have the gall to consider yourself an heir to the Tiger, then show me and show all what you are capable of. Prove your worth. Prove your heritage. I worshipped you. But you always lived in a different world from mine. I hope you are prepared for more. You tell ye a treat. I must save you. I'm sorry. Did you say something? What's wrong? Attack me again. Try it. Not yet. Maybe nice. Shatter your soul now. It is time for you to be safe. Oh, c'è cammino! E vai, sconfitto anche lui! E riparte alla velocità della luce! I'm in love! My heart belongs to you! Hear me now! My mind is resolute! I'll follow you wherever you may go! As your protector! I'll follow you later! There's no way to finish it! Here we go! I'm justma' gonna missич! A pretty sad moment! I'm just gonna go! I don't think we're gonna get free to do with this! Grazie a tutti. Ok, vediamo un po' come si rivolge la situazione qui. Ovviamente Mixonari non può essere sconfitto. E quindi siamo aggiunti alla batteria finale. Dove luce, no, dove sole e luna si uniscono. E per formare le crisi. Ieyasu, mi chiedo, come avvicinare questa battaglia? Ok, vediamo un po' di basso il luogo. Ok. Beh ragazzi, siamo giunti all'epilogo con la storia di Muguriti. Saika. Quindi ci vediamo all'ultimo episodio con Muguriti.